La donna vestita di sole contro l'Anticristo. Nel capitolo 12 dell'Apocalisse il profeta Giovanni l'Evangelista parla della donna vestita di sole, cioè profetizza che nel futuro ci sarebbero state le apparizioni della Madonna. La Madonna viene aiutata e protetta dalle ali della grande aquila. La grande aquila è Giovanni l'Evangelista, il cui simbolo. Sapete, ogni evangelista ha un simbolo, c'è il toro, c'è il leone di San Marco. Giovanni l'Evangelista ha l'aquila, perché l'aquila è l'uccello con la vista più acuta, quindi la vista spirituale di Giovanni arriva laddove gli altri non arrivano. Infatti il Vangelo di Giovanni è un Vangelo iniziatico, un gnostico totalmente diverso dagli altri tre, che sono dei Vangeli cosiddetti sinottici, perché sono molto simili, dove gli evangelisti hanno trascritto la memoria popolare sulla vita e l'insegnamento di Gesù. Però il Vangelo non è facilmente comprensibile perché è smembrato per tema. Quindi il Vangelo andrebbe come un puzzle ricomposto per tematica, perché Gesù dice cose contraddittorie. Dice, onora il padre e la madre, e poi dice, se non odierai tuo padre e tua madre non puoi seguirmi. Al che uno dice, ah signore, che famo? Ma quando dice una cosa sta parlando di un tema, sta parlando di ceci, quando dice un'altra cosa sta parlando di fagioli. Però siccome è sparpagliato bisogna smontarlo e ricomporlo per tematiche. Se avrò tempo un giorno lo farò. E quindi Giovanni l'Evangelista profetizza le apparizioni della Madonna che fanno parte di quella fase della rivelazione. E quindi nei cerchi nel grano che ripercorrono e spiegano l'Apocalisse ci sono i cerchi nel grano della Santa Madre. Cominciamo da questo a passo del 29 giugno, cioè della guerra tra lei e il dragone, e il serpente. Ve la ricordate la Madonna che schiaccia il serpente? Lui si servì è brutta bestia. Ecco, nei cerchi nel grano simbolicamente compare questo. Allora, questo cerchio nel grano, io ci sono entrato fisicamente, non lo trovavamo. Eravamo con Jaime Maussan, abbiamo dovuto lanciare il drone e usare il drone come ricognitore per capire dove cavolo stava. Era in un campo molto lontano da tutte le strade. Le campagne inglesi sono tutte percorse da stradine, tutte belle, perfettine, eccetera. Ma questo era in un campo molto interno, molto nascosto. Alla fine, quindi abbiamo dovuto camminare più di mezz'ora prima di entrarci. Ma avvicinandomi, incomincio a sentire questa emozione e mi scendevano le lacrime. Mi ha detto, ma che cavolo mi succede? Io non sono un emotivo, sono razionale, calcolo, misuro, analizzo. E mi veniva st'amore, st'adolcezza. Dicevamo, ma che cavolo è? Quindi sbordiamo un promontorio e ci appare questo gigantesco cerchio nel grano. Considerate che un essere umano è grande quanto la punta del laser. È un cerchio del 5. Abbiamo 5 cerchi qui, 5 cerchi qui e 5 mezzelune con un cerchio qui. 5, 5, 5. Il 5 è il numero, nella numerologia, della Santa Madre, il numero della Madonna. Quindi questo cerchio nel grano rappresenta lei, la Santa Madre. Rappresenta lei che schiaccia il serpente, l'anticristo, secondo l'Apocalisse di Giovanni. È la mezzaluna, vedete? Ce l'abbiamo 5 volte. Andiamo ad analizzare il simbolismo interno. Allora, il cerchio nel grano è il simbolo della forza della Santa Madre, della sua potenza, perché al centro della prima serie di 5 cerchi sono contornate da un pentagono. Il pentagono è il simbolo della forza. Per questo l'edificio della forza del comando militare americano è a forma di pentagono, perché chi fa queste cose conosce molto bene questa scienza. L'anticristo è molto ferrato nella cabala dei numeri. È appassionato di questo. Lo so perché gliel'ha detto lui a Giorgio. Quindi questi, i capi del mondo, conoscono la scienza spirituale e la usano al negativo. Il fatto però che la forza della Madonna sia divina è perché ha il cerchio al centro. Il cerchio al centro, l'ho già detto prima, il cerchio rappresenta il divino, quindi è la forza divina del 5, 5-5-5. Quindi è il cerchio che rappresenta la donna vestita di sole. Cioè la donna vestita di sole dove Giovanni nell'Apocarisse spiega che avrebbe lottato contro il drago, il drago e l'anticristo. Il 22 agosto compare questo cerchio nel grano. Dello stesso anno, 2014. Lui è il maestro spirituale dell'anticristo. Aleister Crowley, 1875-1947, tra le personalità più studiate nel campo della magia dagli specialisti e dagli appassionati del settore. Esistono in Europa e negli Stati Uniti addirittura delle cattedre universitarie in cui si studia il suo pensiero e la sua opera e gli influssi generati nella cultura contemporanea e nella formazione di importanti personalità come il poeta e premio Nobel irlandese Yates o l'americano Lafayette Ron Abbard che è il fondatore di Scientology, la nota religione moderna di cui fanno parte personaggi famosi come John Travolta e Tom Cruise. Si stima che in Italia ci siano circa 10.000 adepti della chiesa Scientology. Lui è un mago della magia nera sessuale. Era nei suoi ambienti, era un depravato a livelli inenarrabili, era ritenuto negli ambienti da lui frequentati un grande onore che Crowley facesse la cacca sul tappeto del soggiorno della casa che lo ospitava. Pedofilia, non vi dico, ed è un personaggio all'interno del mondo del potere mondiale amatissimo. È il padre spirituale dell'Anticristo. Non si sono conosciuti, ma l'Anticristo si rifà alla sua conoscenza che lui ha ricevuto direttamente da un grande demone. Lui si faceva chiamare, era chiamato il mago nero, ma lui si faceva chiamare la bestia 666, giusto per non confondersi. E uno dei suoi simboli preferiti era l'esagramma unicursale, che è questo. L'esagramma unicursale era il simbolo usato da Alistair Crowley. Quindi possiamo ritenere questo simbolo il simbolo dell'Anticristo. Ma guarda un po', esattamente il cerchio nel grano. Quindi questo è il cerchio nel grano che simboleggia l'Anticristo e compare ad Ackling Dyke. Ma ad Ackling Dyke, qualche giorno prima, era comparso quello della Madonna. Quindi i due cerchi compaiono nello stesso campo, quindi è il campo di battaglia della donna vestita di sole contro il dragone, della Madonna contro l'Anticristo. Quindi siamo dentro cosa? Quindi cerchi della guerra dentro la battaglia di Armageddon, la donna vestita di sole contro l'Anticristo. Sarà un caso? Siamo nel 2014. Questo accade a giugno. A ottobre il Papa dice il diavolo esiste ed è tra noi. Per Papa Bergoglio il diavolo non è un mito ma è una persona reale, il principe di questo mondo, perché il Papa lo conosce. L'Anticristo gli ha detto a Giorgio Papa Francesco fa un po' di testa sua ma lo ricondurremo all'obbedienza. Quindi il Vaticano è sotto suo comando. Con questo Papa? No. Questo Papa gli disobbedisce. Satana regna sui più alti posti determinando l'andamento delle cose. Egli effettivamente riuscirà a introdursi fino alla sommità della Chiesa, Fatima, la Salette. Roma perderà la fede e diventerà la sede dell'Anticristo. Quando la Madonna parla di Roma non sta parlando dell'Olimpico, sta parlando del Vaticano. Roma perderà la fede e diventerà la sede dell'Anticristo. Io ho intervistato anni fa Monsignor Corrado Balducci, demonologo che viveva in Vaticano ed è uno dei pochissimi in ambito di personalità vaticana e gli ha parlato di extraterrestri dicendo che è vero che ci visitano, che esistono. E gli chiese Monsignore, senta una curiosità, ma com'è la condizione della fede dentro le sacre mura? A-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Lo stesso anno in cui compaiono i due cerchi nel grano dice che l'Anticristo esiste ed è una persona reale, infatti ha circa 50-55 anni ed è il capo delle banche. Lui domina il denaro che è lo sterco di Satana.